Ingredienti Dosi per 4 persone 1 cucchiaio di senape in grani 1.5 testa di aglio 5 fette di zenzero Burro Vino bianco 1 cucchiaio di miele 1 cucchiaio di olio d'oliva 1 aista di maiale Olio di semi Preparazione Testare in un mortaio in pietra fino a ridurre ad una pasta Senape in grani Aglio e zenzero Amalgamare con un cucchiaio di vino bianco Miele ed un cucchiaio d'olio di oliva Spalmare questa pasta su tutte le facce di un'arista di maiale Mettere 2 cucchiai di olio di semi in una teglia da forno e diporvi l'arrosto Far cuocere in forno a 220 gradi, secondo la grandezza dell'arrosto, circa 1 ora e 15 minuti Salare a metà cottura e ottenere una crosticina dorata Avvolgere l'arrosto in un foglio di alluminio e far riposare al caldo per circa 20 minuti Sgrassare la teglia e deglassarne il fondo con un bicchiere e mezzo di brodo e rum Far bollire e ridurre di metà Se si desidera Montare la salsa con la frusta con del burro molto freddo tagliato a pezzettini Affettare la carne Versarvi sopra la salsa e servire caldo Il piatto è pronto Buon appetito!